Altri 24 anni di utilizzo del green, il golf diventa lo strumento per la conservazione ambientale della foresta del Cansiglio, territorio incontaminato e unico della pedemontana trevigiana. Una firma, quella tra il Golf Club del Cansiglio e Veneto Agricoltura, che gestisce la foresta per conto del demanio, destinata a rilanciare un ecosistema, creare un'attrattiva turistica e sportiva e dare ossigeno alle attività del territorio. Oggi la firma di questa convenzione è solamente una base di partenza per rivalutare e dare spunto a quello che è la recettività turistica della piana del Cansiglio e del territorio. Firmare una convenzione con il golf oggi per circa 24-25 anni vuol dire cercare di trasmettere anche quello che è il beneficio di questo golf che ricordiamo è il secondo più vecchio a livello veneto, ma vuol dire anche cercare di trasmettere quello che è il beneficio di questo gioco che comporta il fatturato più alto a livello mondiale soprattutto per i giovani del territorio. Ridare vitalità all'area significa anche risolvere il sovrappopolamento dei cervi che rappresenta un problema serio per la foresta. Sono troppi e devastano l'ambiente, i campi coltivati e le distese di gioco. Il problema non è solo riferito al campo da golf, il problema è riferito in tutta la zona, quindi tutta la foresta e anche all'esterno della foresta. Addirittura ci creano problemi sui orti, sui campi, un po' dappertutto, quindi quel piano che Veneto e agricoltura avevano messo sull'abbattimento di questi cervi è molto importante. Questi piani vengono adottati in tutta Europa perché non dovrebbero essere adottati anche qua nel Bosco del Cansiglio. Un piano di rilancio che prevede la ristrutturazione dei campi di gara, la creazione di una nuova clubhouse e pure restauro dello storico Hotel San Marco. Il Golf Club del Cansiglio ha 54 anni. Nella piana del Cansiglio non c'è una recitività enorme che possa dare ospitalità a quello che può essere un intero autobus di turisti. Rivalutare, rimettere a posto, concertare un qualcosa, un progetto per rivalutare quello che è l'ottica dell'Hotel San Marco comporterebbe un beneficio per tutto il territorio. La piana è un luogo unico e suggestivo e pieno di vincoli paesaggistici. Anche la comunità europea dovrebbe prestare più attenzione alla sua conservazione. La comunità europea fa qualcosa ma però bisogna essere molto attenti e essere anche preposti a presentare dei validi progetti. I validi progetti che devono essere anche finanziati. Sappiamo benissimo le difficoltà che ha la regione Veneto, che ha lo Stato stesso, quindi gli enti locali, non immaginarsi. Però l'attenzione è in particolar modo degli enti locali, quindi i comuni stessi, ma però questo problema dovrebbe essere anche presente, far molto presente anche la regione Veneto stessa. Grazie.